Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Vuole la profondità. Occa alla conclusione. E supera il portiere! In sacca! Un gol molto importante! Un gol adesso è molto difficile da recuperare. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Pavoletti sapeva già dove sarebbe arrivata la palla. Questa squadra gioca a memoria. Prepara gli schemi con grande cura.